And darling where do we go? Sto usando quella E il problema spiegatelo Io con quella bici ormai tiro le ginocchiate quando vado, tiro le ginocchiate al manubrio Però c'è una bici di mio papà che a me va bene Solo che ieri si è bucata e l'ho iniziata a usare tre giorni fa Perciò sono messo benissimo Adesso devo ricominciare ancora ad usare questa Che fa schifo Ma schifo Ok Raga dopo verrà anche l'orex Quindi Dopo ci sarà anche lui quindi Sto però facciamo video quindi 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 So Invece che dire quindi So So No raga dopo verrà anche l'orex Quindi What? Oddio E aspettiamo l'orex 47 quindi ci vediamo Anzi Sono le 7 Guardo io 19 36 E quindi Dove aspettare 8 Quindi aspettiamo So aspettiamo Adesso Adesso io non c'ho un cazzo da fare Mi è saltato l'internet ancora Cosa Facciamo un fuck Facciamo un fuck Ci vediamo quando arriva l'orex Sì 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 Tipo un pezzo Boom A dopo Ciao raga benvenuti in questo nuovo video Allora In realtà non è un nuovo video Ti ricordi che ieri l'abbiamo fatto Ciao Ti ricordi ieri che l'abbiamo fatto Anzi raga è passato un giorno Però l'orex è morto Quindi ma Ma se andiamo tipo Che capelli belli che ho Maniflato e parto con lui Non lo so Devo raccontare Ah cazzo che male Ok Eh non so poi ci stanno Eh volevo dire che Io l'ho Io l'orex Ma non è che si fai così Guarda tu inquadri tutt'altro eh Si sbaglia amigos Uno spacciatore Volevamo dire Eh Fermiamolo Raga Volevo dire che Uscirà 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 Raga Il Com'è che si chiama? Quella roba che dice Dopo Che di vivere No Quello lì che ho vede tutta la sprite Ah la nonno my challenge La nonno my challenge La nonno my challenge Va bene Ma si può camminare qua nel mezzo Non lo fa Allora ne possiamo Infatti Però aspetta Fammi parlare un attimo La nonno my challenge Parla La nonno my challenge Però non al conto Lo si vedo ragazzi Eh si infatti con le sprite Ma anche con cose che si piacciono No no E' meglio con cosa che ci fa causare Perché se no non è interessante Sennò è come bere Sennò è come se parlassimo normalmente È solo faccio Guarda scena Quindi So che non è successo Un grazie Però Volevo dirvi che usciva Salutati al video almeno Poverino Eh Al video Si Pota però non si è uscito da ci sentiamo dopo ok niente non aveva bene non so neanche resta e presento le comore va però andiamo di qua andiamo di nato andiamo vera paginato di qua volevo di che allora è partito un primo molto anche pur ma si sicuro fate lo scritto tra 31 scherzo comunque era volevo di che tra poco quindi verranno pochi video possiamo intendere che questo video qua non so nemmeno quando uscirà perché io ce l'ho già editato una parte una parte ce l'ho già editata poi la l'altra avete capito un più o meno vabbè io non vi ho dato tutto quindi è sì ma ero lì dietro cazzo quindi questa faccia così ciao non è successo niente adesso tengo fear quindi guarda come sta ferma così vi dico che più avanti c'è più avanti devo andare dai cinesi a prendere i tre piedi quello piccolino sì almeno posso portarlo anche in giro mette che adesso inizia a far freddo raga non mettono nella papiri benissimo quando rido raga sembra un cinese questa qua veramente vieni stra bene sta facciando così what's up fucking 2 in me sarai abituato magari si sono abituato con questo cosore parliamo di qualcosa ecco volevo dirvi allora cosa ne pensi adesso girate un po oggi ho visto parliamo il marco tra con film c'è non da paura però c'è sia anche il titolo il film si chiamava pa ra normal attivi traduciamo attività paranormali 3 esiste ma devi far così lo so che c'è una roba però c'è un video sul biliardino col tuo tre piedi lo metterai raga video del biliardino lo ritipo hai parlato in tutto il tempo ma non hai spiegato questo qua il vlog è pazzesco comunque raga non stavo neanche registrando va bene vai il tuo cellulare passa ti giuro volevo fare la stessa cosa ok allora volevo spiegarti della non ho mai challenge consiste nel me l'ha spiegato lui bambini cioè io sono un bambino che è più grande di lui non fa ridere eh va bene fai si vede le persone mettiamo il braccio così cosa ti ho detto io no non si vede più perfetto allora volevo spiegarvi consiste nel tipo se tu dimmi qualcosa hai mai fatto vai io non ho mai io non ho mai aperto una porta con i piedi ecco poi come cosa è che devo fare hai fatto se tu l'hai fatto la madonna quanto c'è la vergogna di parlare in strada aspetta ma se andiamo all'ex piccino no aspetta sto pensando all'ex piccino siamo andiamo sopra all'ufficio o sopra qualcosa no tipo c'era tipo dalla parte dove c'è marciapiede si può eh dove c'è marciapiede dove c'è marciapiede cazzo dove c'è marciapiede dove c'è l'acqua la mettiamo tipo lì sopra marciapiede è una storia di strano non tocco sono appena svegliato è il giorno dopo quello che avete visto il clip successivo del vlog con il sesso scusate è finito così è finito così è finito così ma c'era questo qua è stato un fratto pazzesco 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 poi era che farei pazzeschissimo la nonno mai challenge che avevamo già detto ieri con scusate i capelli perché i capelli guardati anche voi mi sembra il caso ok e quindi faremo una nuova challenge con le sprite quindi ci diremo hai mai toccato col piede la porta e poi se se l'ha fatto credo devi bere o compagno non mi ricordo ok devo dirvi questo quindi magari è il momento di montare il video alle 7 di mattina non spesso ne ho 7.40 ok comunque devo iniziare a montarlo così ve lo pubblico il presto possibile oggi è sabato quindi potrei farvelo anche per la vita anche per oggi oggi vi mi pubblicherò dopo i video cioè a sabato sarà ok ok raga concludo col video spero vi sia piaciuto un vlog pazzesco questo è stato il vostro gradimento io so però è durato un po' un po' un po' senza sensino però abbiamo fatto qualcosa quindi almeno un vlog pazzesco come portarvelo che dire spostati su questo video lasciate qui mi piace iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto perchè metti quelli nuovi che arrivano qui sto notando che siamo già 100 qualcosa 123 non lo so perchè quando c'è questo video scenderanno saliranno sto guardando che stiamo andando molto avanti prestissimo che arrivano ridotto 150 e se arrivano a 150 farò una cosa pazzesca che voi non sapete però quindi quale stiamo andando bene 0 4 2 3 aspettate potete tenerla anche così ciao ragazzi e come vi ho già detto al più presto possibile devo andare a prendere i tre piedi piccoli e lo mettere qua e la roba apposta così sta così ok sta tipo così e mi inquadra tipo da queste quadrature qua mi inquadra ovviamente con o lo metterò da questa parte qua così perchè mi inquadrerà proprio molto in alto o così mi inquadrerà però il metterò qua vabbè ciao ragazzi e otto like per un altro bello ciao ciao